Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, quest'oggi siamo al campo del Varedo con tre super ospiti speciali dalla Stardust House Abbiamo Mura, Frattino e Luca Intanto arrivano pure i messaggi Quest'oggi andremo a fare delle sfide particolari La prima sfida, siccome Andre ritorna da un brutto incidente, si metterà a fare la sponda Quindi tiri, faremo dieci tiri a testa con la sponda, si tira di prima senza allungarsela Poi andremo a fare un uno contro uno, Mura contro Luca, uno contro uno devastante Poi uno contro uno contro di me e poi tiri al volo finale Quindi lì sarà tanto da ridere Ci divertiamo, finisco tutti l'hai pallone Quindi qualsiasi cosa lo otteniamo, partiamo subito con la sfida e iscrivetevi al canale Voglio arrivare ai 300.000 il prima possibile Speriamo che arriviamo Iscrivetevi al canale e partiamo con la sfida Ciao ragazzi Ci sta come inizio Oh, oh, bello Sempre col pallonello Però questo era bello dai Tu ce l'hai sempre questo pallonello Era più umile questo Ma che pallato ha messo Ragazzi noi abbiamo già giocato un paio di volte insieme quindi ci capiamo Bello Ma tu sei un bomber di rasta Questo bellissimo Uno pari Ma che animale No dai dopo provo sinistro Un buon tiro Mamma mia Steparato Steparato Ma hai rischiato eh Mamma mia c'è rischiato Oddio 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 Il mancino prediletto del nueve, 2 a 1 vai in vantaggio Applausi oh? Mettimeli tutti su destra Vai 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 c'è c'è Il cellulare mi hai preso No aspetta mi avevo perso il piede d'appoggio Sì ma che palle metto scusami Oh se sbagli hai perso Vabbè ho già vinto è anche noioso giocare contro avversari del genere Comunque guarda la differenza Tra uno che sa usare destra e uno che sa usare la malapaglia E sono già avanti E' uno a zero Poche chiacchiere L'ultima partita che ho fatto io è stato ogni fa L'ultima partita che hai fatto tu quando è stato ieri A te, a te, mi gioco a te A te, mi gioco a te A calcetto Io a calcetto Non scendo da anni ormai Ma fa sempre le partite di calcetto No io no Chi vince vince Chi perde Seconda sfida Uno contro uno Partelù all'affrontare Mura difensore Io te la metto se vuoi Mamma mia Bravo Bravo Vedi quando sai usare anche il sinistro vai da per tu Dio Poi difensore Lui Come volo Vabbè arriva in porta Ah Vabbè Ma che si Ma che mi sono Guarda il noi e Per il volo Che è questo fa È un stato mio È per terra 2 a 1 Sì Cristo Sì Vinto all'ultimo E vince anche questa 2 a 0 Per Luca Mura Sei sotto Adesso Andiamo l'uno contro uno Contro di me Quindi i rigori Che si facevano Negli USA Negli anni Non so Shot out Bravo In shot out Uno contro uno Entro 5 secondi Sì però se c'è la rispita Esatto Se c'è la rispita Non vale Finisce lì Quindi massimo 5 secondi per calciare Iscriviti al canale Oh i 5 secondi però Non lo so Bar No li ho presi Bar Non si è ripresi Bar Bar Siamo su 7-10 3-4-6 anni Sono passati Perché veniva Secondo me Secondo me C'erano le 5 secondi Secondo me No Ma hai già messo 5 secondi Ci hai messo 5 secondi Eh ma dal primo tocco Sì ma riega Fatti da quando un momento Fai così Ah ok Dai vabbè Vai Effettivamente Perché ti vogliamo bene Mura Guarda perché sei sotto 2 a 0 Lo rifa Mura Ah parliamo di prima Parliamo di prima 3-2-1 Ehi vedi allora Parliamo di in faccia Ah Sei No Della bocca no Sei Ma io pensavo l'avessi preso con i guantoni Beh magari Bello bello Mura sei sotto ancora? No Sei sotto ancora muro? Dov'è? Becchini No Anche se Dio 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 C'è E bombe Oh se vuoi mi metto io in mezzo Sto giro Intanto C'è il cambio qui però Intanto qui c'ho la gomma a piuma raga Per prevenire il dolore Alle costole Che mi sono fatto male Per fortuna non è niente di rotto Ma prevenire È meglio che curare Ah Eeeh Metta Vai eh Curacità al rugby Ho battuto tutti i regol Bello Bello Porca Quinto Nooo Che rina bassa campo porca Quinto già ve lo dico però c'è da dire che ha calciato lo stesso con la palla mi sono messo con un po' il canziano cos'è che avevi detto prima? ma fatelo un gol si si ma questo è gol orco d***o ho preso con la punta e mi sono fatto un male tra p***o ooooooh puto si cade troppo guarda ma non va con lui devo perdere guarda guarda questo è il mio nono se segno ho vinto autotrack vabbè almeno c'è una parata ultimo Mura o pareggi o hai perso era un po' fuori l'ultimo lo faccio comunque perché sono un professionista però questa vittoria è stata abbastanza facile e schiacciante vabbè siccome è l'1 a 0 poi puoi dire che è fortuna adesso ti faccio anche il 2 a 0 vabbè vabbè hai perso 3 a 1 3 a 1 a casa 3 a 1 12 anni tu da quanto? 3 è stata una bella sfida dai faremo altre sfide iscrivetevi al canale arriviamo a 10.000 like e ci vediamo al prossimo video ringraziamo tutti quanti salutati seguitelo iscrivetevi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao